anche io esco arricchita da questi due giorni ho imparato tante cose eh credo che questa nostra iniziativa sia la risposta d'emergenza ad un'emergenza eh ci sentiamo chiamati eh perché stiamo vivendo un momento particolare un momento di sconvolgimenti enormi la crisi sanitaria la crisi economica la crisi bellica la crisi eh della democrazia e insieme ci rendiamo conto che ci sono delle opportunità di cambiamento di trasformazione stamattina si diceva eh rivoluzionarie siamo in una fase che potrebbe essere pre rivoluzionaria e allora credo che insomma il senso anche dei dei tanti interventi che ho ascoltato siano proprio quelli di cogliere questi sconvolgimenti per azzardare una prospettiva di rivoluzione in qualche modo di far saltare il tavolo perché non è possibile emendare questo stato di cose eh stamattina si è parlato molto di autonomia differenziata lo ha fatto eh Natale nella sua introduzione poi Marina Voscaino e poi tanti altri io mi occupo di questo per rifondazione comunista credo che sia un nodo importante perché eh ci aiuta non solo a leggere il processo dell'autonomia differenziata ma anche di leggere a leggere i processi generali che si stanno eh che si stanno abbattendo eh sul nostro paese non solo l'autonomia differenziata non nasce nel duemiladiciotto quando sono state sottoscritte quelle intese fra il governo Gentiloni in scadenza tre giorni prima della sua scadenza e tre ricche regioni del nord il Veneto la Lombardia e l'Emilia Romagna nasce in quella riforma del duemila uno del del titolo quinto della Costituzione che eh deformata concede alle regioni che ne facciano richiesta di contrattare in eh contrapposizione fra loro ma di contrattare col governo centrale con lo Stato pezzi di autonomia che non sono pezzi secondari di autonomia ma praticamente riguardano tutti gli asset strategici del paese dall'istruzione all'università alla sanità agli ambienti e all'ambiente ai beni culturali persino alle alle relazioni con gli altri stati europei venti staterelli che contrattano con il governo centrale pezzi di autonomia e insieme all'autonomia cioè al potere risorse risorse che appartengono a tutti allo Stato perché rivengono dalla fiscalità generale e però contrattano di trattenere su di sé e è un percorso terribile che nel duemiladiciotto è fatto dal centro-sinistra nel duemilauno sottolineiamo le queste cose perché il centro-sinistra non può essere un compagno di strada con cui accompagnarsi per un pezzo di strada so è un avversario è un avversario politico e sociale dobbiamo averne consapevolezza di questo e infatti eh quella riforma poi è passata all'incasso da parte di quelle tre regioni che nel duemiladiciotto con il governo Gentiloni in scadenza hanno firmato quelle intese e adesso il governo dei dei cosiddetti migliori vuole passare alla definizione quindi alla pietra tombale dello Stato unitario eh facendo una legge la legge Gelmini che non è stata ancora presentata nel consiglio di dei ministri ma è stata ampiamente diffusa nel paese e anche presentata a chi? A i cosiddetti sedicenti governatori del centro-sinistra del del nord delle tre regioni del nord a cui si stanno accompagnando accompagnando altri sedicenti governatori sempre delle regioni del nord eh io non mi dilungo per problemi di tempo con sulla sui dettagli però la proposta del di legge quadro Gelmini praticamente dice al Parlamento che non serve a nulla che deve solo ratificare con un sì o con un no le intese ribadisce la spesa storica il concetto della spesa storica quella cosa un po' bizzarra per cui eh se tu hai finora non tu comune non hai un asilo nido nella tua nella tua città vuol dire che non hai bisogno di un asilo nido e quindi ti verranno assegnati zero euro mentre se in un'altra città magari del centro nord eh ci sono novanta asili nido indipendentemente dal numero dei bambini e delle bambine che le frequentano avranno ancora i finanziamenti per novanta asili nido questa cosa questa bruttura è nella legge quadro della Gelmini così come l'assegnazione dei fondi e quant'altro e la Gelmini è stata la Gelmini significa il governo Draghi perché non ci sono i buoni e cattivi c'è il gioco dei buoni e cattivi ma tutti sono nello stesso orizzonte e hanno gli stessi obiettivi la Corte dei Conti ha 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 sollevato dei dubbi ma non sono stati recepiti persino il gruppo di lavoro di emanazione ministeriale quindi della Gelmini stessa eh ha sollevato dei dubbi per esempio sul fatto che l'istruzione non potesse essere devoluta alle regioni venti sistemi scolastici diversi la sanità venti sistemi sanitari diversi venti staterelli che agiscono in maniera autonoma in uno stato che è parlamentare unitario non certo federale ma insomma non sono stati tenuti in considerazione eh questi rilievi e adesso se la leggiamo questa se leggiamo questo processo non soltanto dal punto di vista statuale e giuridico ma dal punto di vista punto di vista anche dell'immaginario e culturale significa sostanzialmente quel pensiero per cui ognuno deve fare da sé ognuno pensa per sé e i più forti hanno diritto al dominio ad essere più forti e se tu sei più ricco hai più diritti di altri se sei una regione più ricca hai più diritti dei altri e se sei povero è colpa tua questo è le regioni del nord vogliono più soldi perché dicono che partecipano di più al gettito fiscale nazionale certo partecipano di più perché i contribuenti del nord sono più ricchi e questo semplicemente questo sì vado subito a chiudere voglio fare un piccolo cenno soltanto al pnrr perché le modalità con cui il pnrr è stato concepito ed è realizzato sono truffaldine a cominciare da quel 40 per cento l'Europa è stata così generosa con l'Italia perché intanto doveva tutelare se stessa perché non può sopportare tante diversità all'interno dell'Europa stessa e quindi dell'Italia è stata così generosa perché i criteri con cui sono stati assegnati alla al solo stato italiano più di quanto sono stati assegnati a Francia e Spagna messi insieme e perché in Italia ci sono delle disparità assolutamente insopportabili e i criteri non sono quelli del 34 del 34 per cento del 40 per cento perché i criteri non erano solo sul numero degli abitanti ma erano sul pille sul tasso di disoccupazione per questo al sud Italia doveva aspettare oltre il 65 per cento quindi quel 40 per cento di propaganda del governo in 40 per cento che nasconde una truffa e come tutte le truffe c'è chi è truffato e c'è chi se ne avvale e i truffati sono le popolazioni più povere in particolare quello del sud e i truffatori sono questo governo a trazione nordica e di destra lo dobbiamo dire e anche i calcoli e i bandi e tutto quello che ne è disceso eh oltre sono tutti truffaldini tutti truffaldini pensate che per i servizi sociali e per gli assili nido ed è l'ultima cosa Loredana poi chiudo eh sono stati calcolati eh i i fondi da assegnare nei bandi per eh per i comuni per questi servizi sono stati calcolati non sul numero per esempio dei bambini e delle bambine esistenti che hanno quindi tanti bambini tanti soldi no sono stati assegnati calcolati sulla previsione che l'istat fa al duemilatrentacinque e siccome si sta spopolando il mezzogiorno la previsione che ci saranno meno bambini quindi si dà atto e si prende per incontrovertibile la desertificazione di interi territori e le si e si prevede il futuro in questo modo altro che cambiamento siamo di fronte ad una truffa vera e propria e dobbiamo ribellarci io credo che insomma le lotte vadano messe insieme non è possibile che ognuno faccia la sua lotta e credo che da questi due giorni questi due giorni debba rimanere qualche cosa tante cose sono guardate soltanto trovare le parole chiave di tutte le tante parole che sono state dette in questi due giorni sono un programma per il sud ma non il programma per il sud è il programma per il paese che viene fuori e io credo che da questi due giorni debba uscire una carta di intenti le le cento parole che ci stanno a cuore che devono parlare nei prossimi mesi anche a chi si appresta a fare una proposta politico elettorale per il paese il mezzogiorno chi governa i mari chi controlla i mari controlla il mondo è stato detto il mediterraneo è controllato e governato dagli stati uniti d'america taranto si trova al centro fra gibilterra e suez quei passaggi sono fondamentali e sono governati dalla nato e dagli stati uniti d'america e invece si può si può trovare un'altra strada che è una strada non soltanto economica e culturale è una strada antropologica che riscriva i codici dell'umano e del rapporto che gli umani devono avere con il territorio e con la natura di cui sono ospiti passeggeri grazie grazie